La shortlist delle finaliste ha ridotto a 10 le pretendenti al titolo di Capitale Italiana della Cultura per il 2024. Dalla scrematura resa nota dal Ministero della Cultura, 2 su 4 le toscane che continuano la corsa sono Viareggio e Grosseto. Soddisfatti i rispettivi sindaci del Ghingaro e Via Varelli Colonna, delusione invece per Vinci e i comuni della Miata, esclusi dal novero finale e che adesso chiedono che il progetto maturato in questi mesi non cada nel vuoto. Per le altre due adesso si fa sul serio, non mancherà la concorrenza guerrita considerata che se la vedranno con Ascoli Piceno, Chioggia, Mesagne, Pesaro, Sestri Levante, Siracusa, Vicenza, l'unione dell'Alto Cilento con Pestum Capofila. Prossimo appuntamento è fissato al 2-4 marzo quando partiranno le audizioni delle città selezionate, la decisione finale invece è attesa per il 29 di marzo.